Benvenuti, benvenuti alla diretta di oggi di Stampa Evangelo. Buongiorno, oggi è venerdì 29 di settembre, il giorno in cui si chiude la conferenza farsa sulla famiglia. In corso a Roma, nel Campidoglio, giornata surreale di cui discuteremo con un po' di mamme. Vedo qui arrivare già Giovanna Arminio, nostra prima eletta e oltretutto mamma. C'è Maria Verita Boddi, c'è Corrado Salonia, Giovanni Barbaro, Marcello Baldini, Meri Rossi, PDF Padova, Milena Brindisi-Trabona, Giuseppe Ficca. Vi ringrazio per l'arrivo già al mattino, spero che siano state attivate le notifiche per tutti gli amici che le hanno richieste. Vi richiedo di fare la richiesta di notifica di questa diretta, così vi verrà notificato ogni giorno alla partenza. C'è Massimo Fiorini, Saimir Zmali, Andrea Caveniaki, Popolo Famiglia della Lombardia, Ninnarello. So che oggi è in consegna a Ninnarello, direttamente all'abitazione, la copia di O Capiamo Moriamo, che ha acquistato tramite il marketplace della Croce Quotidiana, servizio a domicilio. C'è Frarino, lo salutiamo, Gabriele Marconi, Giulia Matteoni, Silvia Ferretti, ecco Saimir che per una volta si è svegliato presto, Piera Giacometti, il nostro Marcello Baldini, anche lui un eletto del popolo della famiglia in quel di Ravenna, Marco Sciamanna, grazie a tutti coloro che, come dice Milena Brindisi-Trabbona e come dice Giovanni Arminio, non solo faranno il like, cioè il mi piace a questa diretta, ma faranno anche la condivisione sul proprio profilo. Capito, Barbara Moi, eletto Capiamo Moriamo, ieri presentazione in quel di Ostia e Barbara Moi, è una delle colonne del popolo, della famiglia del municipio Roma 10, dove si va a elezioni il 5 novembre, lo ricordo, c'è Federico Pieroni, c'è Orazio Filippelli che ieri ha fatto il suo esordio sul quotidiano La Croce con un bellissimo articolo riguardante Charlie Gard, c'è Carla Stefanini, c'è Antonella Bagno del PDF del Piemonte, Emanuele Robue, PDF Torino, Giuseppe Siciliano, che fa un richiamo direttamente a Corrado Salogna, che sono gli amici siciliani del popolo della famiglia, Lucia Toniolo Restelli, Simon Pietro Carta, Elena Di Pietro, dunque un mi piace alla diretta, un condividi sulla vostra pagina e anche se potete un invita amici, c'è una possibilità di invitare direttamente gli amici alla diretta, amici che così potranno ascoltare quello che diciamo. È arrivato anche Giovanni Fiori, il nostro candidato presidente al municipio Roma 10, che sta avvarando il programma di governo per il territorio legato alle esigenze del litorale romano, legato alle esigenze del rapporto con i bisogni, ad esempio, riguardanti il trasporto pubblico locale. C'è Massimiliano Coccia di Radio Radicale, lo salutiamo volentieri, c'è Michela D'Adamo, c'è Piera Giacometti, c'è Roberta Basta, Vera Orsinger, Danilo Bassan. Allora vi ringrazio davvero per l'attenzione e io passerò immediatamente alla lettura della pagina di Vangelo di oggi, non prima di aver salutato anche Alberto Cerutti, Ottavio De Lutio, Mari Mar, Alessandra Bertozzi e Paola Perissinotto. Siamo davvero già a molti. Luciana Frangioni, anche Luciana Frangioni ha appena acquistato al Marketplace della Croce il libro O Capiamo o Moriamo e avrà l'invio proprio in mattinata, ho visto già preparati qui in ufficio le copie per la spedizione. C'è Mirko De Carli, c'è Daniela Grechi, c'è Anna Russo, c'è Massimo Cucciolotti, Carmela Cutolo, Rosa e la Nora degli Esposti. Allora chiedendovi di nuovo un mi piace e un condividi alla diretta. Oggi parleremo di conferenza nazionale sulla famiglia che si è appena aperta ieri al plesso del Campidoglio a Roma, però prima ascoltiamo come sempre la parola del Signore che ci dà una luce diversa alla lettura dei fatti del giorno e anche una serenità diversa personalmente a ciascuno di noi. Ho salutato anche Mirko De Carli, Enzo Fortunato, protagonista della prossima tappa domani a Bari del O Capiamo o Moriamo Tour, Emiliano Fumaneri alias Andrea Sofer, Massimo Pistoia che ci saluta da Cesena, Alberto Cerutti invece ci saluta da Borgo Manero, la tappa di Novara sarà il 28 ottobre, c'è Cristina Zaccanti, Monica Consigliere che ci scrive da Rock Brun in Quel di Francia, Andrea Arteggiani, altro autore nuovo del quotidiano La Croce, Silvia Lucchetti di Aleteia, Corrado dice ha letto 25 pagine una sera di O Capiamo e Moriamo, insomma davvero bello, Monica Consigliere dice vieni a trovarmi, faccio bed and breakfast a casa mia, perfetto, vengo sicuramente, promesso io adoro la Francia e molto spesso riesco ad esserci, quindi ti verrò a trovare sicuramente, Alba Nuova, Marco Langellotti, dice la frase chiave su cui ragioneremo oggi, ero fatto una conferenza sulla famiglia senza la famiglia, esattamente il tema, Famiglia Longobardi ci saluta e dice ci guarderà indifferita, prima però mi piace un condividi alla diretta cara Flaminia in maniera che altri possano seguirla sul tuo profilo, Cristina Zaccanti, Anna Del Guerra, Davide Fontana, Vladimiro Campello, siamo in tanti, siamo davvero in tanti, c'è anche Mauro Poggio che dice che devo capire i danni che faccio, buona giornata, prega per me per capire i danni che faccio, io insomma il danno che faccio adesso è leggere il Vangelo, diciamo così, il Vangelo secondo Giovanni, siamo nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni, 47 e 51 sono i versetti, dal 47 al 51, in quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui, ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità, Natanaele gli domandò, come mi conosci? gli rispose Gesù, prima che Filippo ti chiamasse io ti ho visto, quando eri sotto il fico? gli replicò Natanaele, Rabbi tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele, gli rispose Gesù, perché ti ho detto che ti avevo visto sotto il fico, credi? vedrai cose maggiori di queste, poi gli disse, in verità, in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, questo è il Vangelo di oggi, Natanaele crede semplicemente perché Gesù dice di averlo visto sotto il fico, gli basta pochissimo, è pronto alla fede, pronto ad accogliere la parola di Cristo, pronto all'incontro con Cristo e noi di cosa abbiamo bisogno? Abbiamo, come dire, un lascito estremamente più significativo, più forte di quello che convince Natanaele, che è stato semplicemente visto da Cristo sotto al fico, noi abbiamo due mila anni di testimonianze, di segni, di evidenze, eppure la nostra fede è fragile, e questo ci interroga, ci fa domandare perché non siamo così nettamente più forti nel dire quel che occorre dire, in particolare quando si parla di famiglia, scusate, un momento di freddolino, Raffaella Zanchini scrive un bellissimo, viva gli angeli, davvero viva gli angeli, e viva i segni che ci aiutano a capire e a rafforzare la nostra fede, e sarà bello fare questa puntata tra uno starnuto e l'altro, ragazzi, è il bello della diretta, come si dice insomma. Entriamo dunque a piedi pari nella vicenda di oggi, che è la vicenda riguardante la conferenza nazionale sulla famiglia, tanto Roberto ci saluta da Tirana, Massimo Pistoia ci ricorda, perché lo sapevamo già, la notizia di De Magistris, il sindaco che ha bloccato l'arrivo del bus arancione della libertà di Sidi Zengo a Napoli, insomma la guerra continua, amici miei, continua assolutamente in maniera netta, ma noi dobbiamo concentrarsi su una notizia, la notizia è quella della conferenza nazionale sulla scuola, perché la conferenza nazionale sulla famiglia, scusate, la conferenza nazionale sulla famiglia è veramente la presa in giro incredibile che è stata organizzata purtroppo con la complicità, con la complicità del stesso mondo cattolico organizzato, diciamo così, della gerarchia ecclesiale, della conferenza episcopale, e in questi giorni è lì, presente a una conferenza che è stata aperta ieri da Paolo Gentiloni, notoriamente Paolo Gentiloni non ha figli, a seguire dopo l'intervento di Paolo Gentiloni c'è stato l'intervento di Virginia Raggi, quella che si è separata col marito, un bambino piccolo, poi Laura Boldrini, fenomenale intervento di Laura Boldrini, Laura Boldrini ha fatto tutto l'intervento per ricordarci e spiegarci la sua ossessione per le declinazioni delle parole, Laura Boldrini ci ha spiegato che bisogna dire sindaca, che bisogna dire ministra, e si è beccata addirittura da Giorgio Napolitano, diciamo da un esponente storico, autorevolissimo della sinistra italiana, la definizione di orrori lessicali, orrori, ieri alla conferenza nazionale sulla famiglia, ancora lì a farci la lezioncina con la maestrina, come bisogna dire, non bisogna dire più famiglia, ok, va alla conferenza nazionale sulla famiglia e dice non bisogna dire più famiglia, tanto è arrivata Francesca Centofanti, la nostra malandata, spero si senta meglio, malandata coordinatrice editoriale insieme a Emanuela Pongiluppi Lauteri, ieri alle prese con dei malanni, spero che si sia trovata a suo agio dopo le flebbo, diciamo che purtroppo ha dovuto subire, dacci notizie Francesca. Allora Laura Boldrini fa questo discorso completamente sconclusionato, come quello di Gentiloni, dice bene Federico Pieroni, viene alla conferenza nazionale sulla famiglia per spiegarci che non bisogna più dire famiglia, bisogna dire famiglie, famiglie, d'accordo? Famiglie perché? Perché ci fa tutta la lezione, tutto l'intervento è su questo, che esistono le coppie omosessuali e questa legislatura ha anche realizzato la legge per le coppie omosessuali, insomma questa qui va alla conferenza nazionale sulla famiglia, che finalmente per un minuto, un minuto, rispetto a cinque anni di legislatura, doveva occuparsi dei bisogni di 29 milioni di mamme e papà che allevano 15 milioni di figli minori o non natosufficienti che vivono ancora a casa, 44 milioni di persone completamente ignorate dalla politica e va lì a parlare delle 2 mila coppie omosessuali che si sono unite civilmente. Solo questo, solo questo. Allora, non dobbiamo più dire famiglia, viene a farci la lezioncina, dobbiamo dire famiglie e l'unica cosa che le interessa sono le 2 mila coppie omosessuali unite dalla legge Cirinna. Attenzione, la definizione famiglia non è una definizione inventata dai cattolici del popolo e della famiglia, è una definizione della Costituzione Repubblicana, la Costituzione Repubblicana dà una definizione cara Presidente Boldrini e bisogna, se fa il Presidente della Camera, sapere cosa dice la Costituzione. La Costituzione Repubblicana dice che la Repubblica riconosce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna. Questo dice la Costituzione. Non dice la Repubblica riconosce le famiglie secondo a fate come vi pare maschio e maschio femmine e femmine. No, la famiglia articolo 29 della Costituzione che viene riconosciuta quindi è preesistente alla Costituzione e alla Repubblica stessa viene riconosciuta questo è il verbo che usa la Costituzione che non è stata scritta dai cattolici è stata scritta da Palmiro Togliatti da Benedetto Croce certo anche con Aldo Moro al Cirete Gasperi ma la terminologia dell'articolo 29 è la famiglia la Repubblica riconosce quindi riconosce come preesistente la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio caro Presidente della Camera queste cose le sa persino Monica Cirinna Monica Cirinna quando ha dovuto scrivere la legge Cirinna aveva fatto il riferimento all'articolo 29 gli uffici della Camera gli hanno detto caro Monica Cirinna non puoi scrivere il riferimento all'articolo 29 le unioni omosessuali sono fuori dall'articolo 29 non c'entrano nulla con la definizione di famiglia se vuoi fare una legge costituzionale che non ti sia bocciata al primo ricorso il riferimento lo devi fare all'articolo 2 l'articolo 2 è quello delle formazioni sociali particolari non puoi non puoi pensare che sia analogo il rapporto tra un uomo e una donna che genera figli con il rapporto tra due omosessuali la legge lo dice la costituzione cioè la carta fondante del patto sociale della Repubblica Italiana se questo un presidente della Camera non lo sa e va alla conferenza nazionale sulla famiglia in punta di penna a fare la lezioncina no ma adesso esistono le famiglie perché non si alza un benedetto cattolico in piedi e dice Presidente ma che sta dicendo ma che sta dicendo e c'erano lì il mio amico Gigi De Palo era lì rappresentante della conferenza episcopale italiana anzi rappresentante del forum delle associazioni familiari che è tanto contento di fare questa conferenza nazionale sulla famiglia e prendersi questa parata perché è una parata preelettorale in cui dicono con grande chiarezza che non ci sono soldi per fare niente se non qualche briciola inutile ma la parata preelettorale con la fanfara di avvenire di tutto il mondo cattolico diciamo così gerarchizzato che dice bravi 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 brava la Boldrini ora sarà il caso hanno detto vi invitiamo e non fanno parlare nessuno dei nostri diciamo così che vanno lì a fare semplicemente la foglia di figo sapete chi ha fatto gli interventi inaugurali ve l'ho detto raggi gentiloni Boldrini gli interventi conclusivi oggi oggi mi fanno Maria Elena Boschi e Valeria Fedeli che come Paolo Gentiloni hanno una piccola caratteristica non hanno figli non hanno figli non solo la Fedeli è quella dell'imbroglio sulla laurea che non è laurea sulla maturità che non ha mai fatto la presidenza l'esponente di istituzione più diciamo così disprezzabile di questo governo che appena reduce dalle iniziative di ieri della giornata mondiale sull'aborto voluto dalla CGL dal femminismo italiano eccetera eccetera io dico signori mei ma davvero ci dobbiamo far fare tutto questo lo dico ai cattolici non lo dico a loro loro fanno il loro lavoro fanno la loro propaganda provano a raccogliere consenso con la loro propaganda poi io Gigi Repalo lo capisco Gigi Repalo vuole fare il ministro della famiglia il prossimo governo vuole dimostrarsi affidabile per questi mondi delle larghe intese di questi inciuci e dunque va lì e fa la foglia di fico per carità le ambizioni personali di Gigi sono note le conosciamo li vogliamo bene anche per questo per le sue diciamo disperanti miserie umane però una volta ti devi alzare in piedi e dire sta roba è una vergogna e lo devi dire sei lì lo ascolti come l'ho ascoltato io lo devi dire non puoi farti dire esistono le famiglie non esiste più la famiglia l'articolo 29 della Costituzione che ha alpestato in quella maniera ragazzi una cosetta di dignità un tantinello di dignità valsate in piedi tanto restate affidabili lo stesso per le vostre ambizioni è meglio invece le fa i tappetini vi alzate una volta e dite oh ma non potete fare così le discussioni che a noi a De Palo hanno fatto coordinare un tavolo ieri dagli il contentino no? ma oggi le relazioni le fanno quelli che hanno coordinato i tavoli non le fa Maria Elena Boschi non le fa Valeria Fedeli che sono purtroppo persone che non gliene frega niente della famiglia perché alla famiglia hanno sacrificato tutto perché c'era il potere da detenere per detenere il potere ieri parlavamo alla pagina di Vangelo di Erode ragazzi se c'è Erode noi per carità non è che si punta il dito contro Erode ma se Erode ti decapita Giovanni il Battista eh almeno sai chi è allora questo è un governo che ha fatto è una legislatura è una maggioranza che ha fatto tutte le leggi possibili contro la famiglia oggi finalmente se ne accorge persino un altro quotidiano oltre alla croce che ovviamente fa l'apertura su questi su questi temi oggi Libero per una volta e finalmente fa un titolo come dire che dovrebbe essere immediatamente sottolineato il titolo a tutta pagina della prima pagina di Libero è lotta dura alla famiglia il governo batte il record di leggi contro genitori e figli oh chiaro è andata così questa legislatura è la legislatura di Erode che decapita Giovanni e noi andiamo tutti da Erode a dire ma si tutto sommato possiamo ascoltare quello che ha da dire sui profeti cioè ma ragazzi ma siamo impazziti ma siamo impazziti e senza un bricio di dignità siamo rimasti ormai proprio lì in attesa solo del contentino della poltroncina e non ci alziamo mai a dire oh ragazzi basta con le prese per il culo no adesso veramente la Boldrini viene alla conferenza sulla famiglia e ci spiega pure che c'è a dire famiglie e parla solo delle famiglie omosessuali ma da ma ragazzi ma di che parliamo io vi chiedo un minimo di dignità o a questa cosa ci si oppone lo dico con chiarezza e lo voglio dire con serietà o a queste cose ci si oppone perché è totalmente vero hanno fatto il record di leggi contro genitori e figli o a questa cosa ci si oppone con dignità con forza con capacità a partire dal mondo cattolico che della lezione sulla famiglia fa il proprio ragione di essere nel tessuto sociale o noi facciamo questo o noi ci consegniamo mani e piedi ammanettati alla decapitazione alla decapitazione perché questi hanno in testa un modello di società che è totalmente alternativo a quello che noi abbiamo in mente secondo anche secondo Costituzione ce lo spiegano ce lo dicono in faccia ci dicono voi non contate nulla 29 milioni di mamme di papà 15 milioni di figli che vivono ancora a casa minori o maggiorenni non ci interessano ci dice Laura Boldri ci interessa per fatto la legge per le unioni omosessuali per ragioni ideologiche Anna del Guerra dice ci considerano proprio degli scemi se invece la maggioranza degli italiani si svegliasse ma almeno si svegliassero i cattolici che poi sono svegli perché non è vero che Gigi o quelli che hanno mandato Gigi non sono svegli sono svegli non sono scemi ma devono capire che il giochino di essere collaterali a questo tipo di politica forse porta qualche vantaggio in termini personali ma in termini sociali e collettivi porta al disastro porta al disastro tra l'altro non si incassa neanche nulla per quelli che pensavano di andare a conferenza della famiglia e andare a incassare un po' dei quattrini per la prossima manovra economica prenderanno solo spicci prenderanno solo spicci e non possiamo immaginare che ci facciamo comprare con un po' di spicci con neanche 30 denari con 15 denari questo è qualcosa che non possiamo consentire dobbiamo come mondo organizzato come ho provato a dire ieri dice Francesca Centofanti che ha visto la diretta di O capiamo o moriamo tour da quel di Casal Palocco noi dobbiamo ragionare e con il ragionamento comprendere che senza un'opposizione netta chiara forte alzata in piedi contro questi che arrivano e ci fanno una lezioncina dicendo le famiglie dovete dire famiglie dovete dire ma come ti permetti presidente della Camera ignorante crassamente incapace di leggere persino la Costituzione repubblicana come ti permetti come ti permetti la risposta è opporsi Francesca Squarcialupi oltre le manifestazioni e le sentinelle in piedi che altro si può fare si aderisce al popolo e alla famiglia si entra nel popolo e alla famiglia si fa battaglia si raccoglie consenso e si porta nelle istituzioni che eleggeranno il prossimo presidente della Camera persone che non rieleggeranno mai Laura Boldrini ecco quello che si fa ecco quello che si fa se si fa questo forse salviamo questo paese forse salviamo questo paese se si fa questo se si entra nel popolo e alla famiglia ci si iscrive al popolo e alla famiglia si dà battaglia all'interno delle istituzioni si ricerca consenso a tutti i livelli dal municipio di Roma dove siamo candidati il 5 novembre fino al Parlamento nazionale al Parlamento europeo o facciamo questo o la partita è finita persa chiusa caput non c'è alternativa signori si prende un milione di voti si entra in Parlamento con 30-40 parlamentari fra Camera e Senato e cambiamo radicalmente gli equilibri politici di questo paese affinché non sia più possibile varare normative di questo genere lo ripeto il governo il governo batte il record di leggi contro genitori e figli questa volta non è un'apertura del quotidiano La Croce è l'apertura di un altro quotidiano il laico libero scusate se mi sono un po' appassionato ma io sono incredulo davvero incredulo oggi me lo sentì Valeria Fedeli che mi viene a fare la predica sulla famiglia Valeria Fedeli ma davvero Maria Elena Boschi ma che ne sanno ma che ne sanno fanno tutto solo e soltanto perché siamo a sei mesi dalle elezioni regalano qualche briciola e provano così a recuperare livelli di consenso che sono veramente qualcosa di intollerabile Giancarlo Stival scrive ma la Boldrini è proprio in malafede è possibile che nessuno dica nulla verso questa persona ignorante e antitetica ad ogni immorale che ne so dietro ai nostri rappresentanti oggi alla conferenza nazionale sulla famiglia che non si sono alzati in piedi dicendo al presidente della camera che stava dicendo sfondoni costituzionali ed etici che quella roba non si doveva permettere di dirla alla conferenza insomma PDF in Parlamento Gianfranco Amato ministro della famiglia questi sono gli obiettivi di declina Danilo Leonardi c'è Pippo Inbesi ci sei incazzata come tutti noi ragazzi non dobbiamo limitarci ad essere incazzati dobbiamo essere incazzati e organizzati organizzati l'organizzazione è l'elemento determinante del successo di questo lavoro vi chiedo intanto di fare un like a questa diretta un mi piace condividete questa diretta sulla vostra pagina diventiamo organizzazione che parla a più persone possibili se noi parleremo ma più persone possibili riusciremo a raggiungere l'obiettivo che è l'unico obiettivo che può modificare gli equilibri reali rafforzare il popolo e la famiglia più persone iscritte al popolo e la famiglia più militanti sul territorio più candidati stiamo cercando 945 persone che ci rappresentino nella corsa alla Camera e al Senato e alle regionali ne avranno altre centinaia alle comunali altre centinaia quindi migliaia di persone che si candidano quindi prendono in prima persona la responsabilità di rappresentare queste esigenze presso la cittadinanza la raccolta di consenso che è un lavoro estremamente complesso e poi da lì andare verso i traguardi possibili dobbiamo esserci organizzarci lavorare fare qualcosa con tutti quindi vedo chi cita Magdi Allam il bus arancione ma ovviamente tutti popolo e la famiglia è una realtà aperta alla collaborazione con tutti e per tutti questo è porte e finestre di questo movimento sono spalancate ma certo dice Claudio Parisini ora lottiamo per Ostia anzi per fatemi dire bene Ostia Casalpalocco Aciglia Castelporziano Infernetto Malafede quella città straordinaria di 250.000 abitanti che va al voto il 5 di novembre ora ci battiamo lì per questo traguardo poi ci batteremo in tutta Italia per le elezioni politiche per le amministrative Giacomo Gallotto ci saluta da Prato c'è Andrea Aquilino che dice insistere insistiamo insieme insistiamo insieme sapendo quello che diciamo io ho scritto un volume di 207 pagine che è un manuale per avere le informazioni le cose da dire per essere credo in qualche modo convincenti domani ricordo sono a Bari quel di Modugno per la precisione a fare la presentazione di O capiamo o moriamo nella principale città del sud dopo Napoli quindi andiamo a toccare città per città avete già visto il calendario molto fitto dieci regioni già coperte dal O capiamo o moriamo tour e andremo anche nelle altre dieci evidentemente saluto Evergheno è arrivata anche la Emanuela Pongiluppi in questo momento il coordinamento editoriale Anna Russo ma avete mai notato gli sguardi della Boldrini di Gentiloni degli altri dirigenti del governo sono fissi senza vita fanno impressione ieri ho fatto un elenco di dieci album musicali che mi hanno molto colpito che hanno rappresentato la colonna sono la mia vita così era un divertissement che oggi trovate sul quotidiano la croce e citavo questo album bellissimo che si intitola Wish You Were Here in cui c'è una definizione di Sid Barrett che è il fondatore di Pink Floyd in cui i suoi occhi vengono definiti così Now there's a look in your eyes like black holes in the sky i tuoi occhi sembrano ormai come buchi neri nel cielo ed è forse una definizione che è vicina a quello che diceva Anna Sid Barrett era impazzito il fondatore di Pink Floyd impazzisce proprio mentre registrano questo album nel 1975 negli studi storici di Abbey Road incredibilmente Sid Barrett si immaterializza nello studio e lo trovano completamente proprio trasformato in maniera orrenda e gli guardano gli occhi e la definizione poi viene trasposta in musica in questa canzone meravigliosa che dura 14 minuti che sentito Shine On You Crazy Diamond continua a risplendere diamante folle e la definizione resta loro di quello sguardo ormai perso che è lo sguardo impazzito che somiglia a un buco nero nel cielo like black holes in the sky ed è veramente lo sguardo dell'impazzimento lo sguardo dell'impazzimento quando l'occhio diventa come dice Roberto Gramaccia hanno gli occhi vuoti scusate la digressione scusate la digressione non è una grande cultura musicale è uno degli album più famosi di tutti i tempi non voglio neanche è solo colonna sonora però certe volte dà ispirazione ieri ho voluto scrivere questa riflessione tra l'altro indotta perché c'è un altro quotidiano che è il fatto facendo la rassegna stampa per stampa e vangelo tutti i giorni leggo tutti i giornali e quindi riesco a sapere tante iniziative oggi vi ho letto questa titolazione di Libero il governo batte il record di leggi contro genitori e figli ieri mi aveva colpito in prima pagina del fatto quotidiano che una volta tanto non era manettaro ma diceva perché non scrivete i dieci album della vostra vita e allora ho risposto a questo divertissement e lo trovate oggi a pagina 4 Giovanni Marco Tullio mi ha sbattuto in pagina 4 del quotidiano La Croce saluto anche Don Francesco Colamonaco lo sguardo di quegli stessi cattolici confusi e avvinti dal pensiero unico e dominante viva il popolo della famiglia grazie Don Francesco saluto Anna Marras più che occhi tristi sguardo distratto di chi sta dicendo cose che non corrispondono spesso a quanto stanno pensando e chissà che penseranno una bellissima riflessione Anna grazie di avercela regalata saluto anche Angelica Bosio che dice l'elenco dei dieci album è da intenditore grazie grazie Angelica Massimo Pistoglia dice io per loro ho pietà perché non hanno conosciuto Cristo ma mi impressionano più gli occhi di alcuni cristiani che di fronte a tutto questo tacciono a loro Cristo è stato annunciato esatto così esattamente così Danielo Leonardo applaude Marco Tuglio il suo bullismo di avermi sbattuto in pagina 4 grazie Danilo saluto Alex Zino Finori Stefano Fanelli Anna Del Guerra Faustino Cogliandro Anna Ciappa dice il Signore dice Anna Ciappa dice il Signore che la bocca parla dalla pienezza del cuore facciamoci due conti su quello che c'è nel loro cuore allora vi chiedo a questa puntata che credo sia abbastanza rilevante per queste tematiche che andiamo a sottolineare nel giorno in cui si chiude perché fra qualche ora si chiude la conferenza nazionale sulla famiglia vi chiedo il like il mi piace e il condividi sul vostro profilo affinché più persone possibili possano ascoltare le cose che abbiamo detto Paolo Ruoto dice il popolo della famiglia ha proposte concrete realizzabili per la famiglia il resto è il nulla ieri durante la presentazione di Ocapiamo e Muriamo che ho fatto a Casal Palocco ho fatto una cosa che non faccio mai ho letto voi sapete io parlo a braccio sono tutti monologhi che infatti mi sfondano i polmoni perché ogni giorno ne faccio per ore questa è la prima ora di monologo diciamo così e parlo sempre a braccio ieri per una volta ho letto e ho letto le pagine 166 167 168 di Ocapiamo o Muriamo perché l'ho fatto perché quelle tre pagine 166 167 168 sono le pagine in cui sono scritte le proposte concrete di governo immediatamente realizzabili al popolo e la famiglia Consuelo Nespoli mi chiede come ci si scrive al popolo e la famiglia si va molto semplicemente sul sito e sul marketplace della Croce Quotidiano www.lagrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora ci sono tutte le maschere per poter fare l'abbonamento alla Croce per poter acquistare o capiamo o moriamo per poter acquistare voglio una mamma e anche per iscriversi al popolo della famiglia molto semplicemente ci si scrive lì si manda un'email tutte le indicazioni sono là si riceve la tessera e da quel momento si è formalmente iscritti al popolo della famiglia Giovanni Fiori intanto ci informa che domenica delle 17 alle 21 all'Arcobaleno Beach lungomare Toscanelli 183 faremo l'ultimo appuntamento di raccolta firme per la candidatura di Giovanni dicevo la lettura delle pagine 166 167 168 di O capiamo o moriamo da proprio un impianto delle proposte di governo e dicevo ieri durante l'intervento all'iniziativa di Casal Palocco che quelle proposte non sono proposte che stanno sulla luna quelle proposte se noi prendessimo il 50,01% per capirci alle elezioni sarebbero immediatamente applicabili cioè noi potremmo farlo il giorno dopo il reddito di maternità la libertà scolastica la dichiarazione universale del diritto universale a nascere l'insolvimento in costituzione del diritto del bambino avere una mamma e un papà cioè tutte cose che trovate lì che riguardano anche la politica economica sono proposte concrete che noi potremmo applicare il giorno dopo se avessimo il 50,01% dei voti alle elezioni cioè è un programma di governo concreto d'accordo concreto Benedetta Lorenzoni Bocciardi dice a quelli come Alessandro Maria Catrani che non è interessato ad ascoltare di non perdere tempo qui ma in realtà loro sono interessati Benedetta sono interessati vengono qui perché in qualche modo sono attratti da quello che diciamo e dunque passano il loro tempo ad ascoltarci perché c'è un interesse anche in coloro che sono apparentemente distanti sono incuriositi dalla nostra proposta bene noi abbiamo una proposta di governo del paese che abbiamo tratteggiato in queste pagine che sono le pagine tra l'altro conclusive di o capiamo o moriamo in cui è evidente Claudio Iacono mi corregge giustamente basterebbe il 40% e scatterebbe il premio di maggioranza con quel 40% dei voti noi potremmo immediatamente cambiare drasticamente le vicende di questo paese drasticamente ma subito perché non abbiamo scritto un libro dei sogni abbiamo scritto delle proposte concrete di governo del paese Benedetta Lorenzoni Bocciati bisogna renderli consapevoli che gli interessa quindi giusto esattamente così Benedetta saluto Maria Antonietta Carosi dice ci sono 5 milioni di cattolici votanti votassero tutti per noi saremmo a un passo dalla capacità di conquistare questo 40% dei voti che diceva Claudio Iacono e in realtà noi penso possiamo parlare anche al resto del paese non solo ai cattolici Luigi Cazzola dice il reddito di maternità è per tutte anche le cossulmane il reddito di maternità è per le donne cittadine italiane questo è il principio che abbiamo stabilito in cui il criterio di cittadinanza è un presupposto per l'accesso al reddito di maternità Lorenzo Damiano che già ha fatto il 3% sul suo territorio ricordiamo che è dunque uno che ha già fatto l'obiettivo che dobbiamo centrare ha scritto che il popolo della famiglia è il propulsore nessuno lo ferma Gesù è con noi ferita a Boddi più concretamente la donna concreta del nord dice per cominciare è sufficiente anche il 3% Angela Chianese dice unitevi al centrodestra al centrodestra di chi? centrodestra di Forza Italia che lascia libertà di coscienza sull'eutanasia o al centrodestra della Lega che vuole che la prostituzione sia un'opzione professionale come le altre con la partita iva le nostre figlie possano fare le puttane al centrodestra di Fratelli d'Italia che candida Vittorio Feltri che è un iscritto all'Arcichè alla Presidenza della Repubblica e fa aprire la campagna elettorale di Giorgia Menoni da rita della Chiesa che fa la tirata a favore dei matrimoni gay non lo so il centrodestra ormai è diventato un luogo di ambiguità talmente evidenti che serve un'alternativa politica un'alternativa politica identitaria cristianamente ispirata perché come diceva Rita Boddi è un centrodestra avaloriale e venduto e noi non abbiamo l'obiettivo di sconfiggere la sinistra noi abbiamo l'obiettivo di far entrare una forza interdittiva almeno all'inizio interdittiva in Parlamento che impedisca la formazione di qualsiasi maggioranza che prescinda dalla contestazione radicale dei principi non negoziabili questo è quello con cui noi siamo candidati e per questo siamo candidati in posizione autonoma sia dal centrodestra che dal centrosinistra chi vuole votare centrodestra se lo voti ma sa che vota una marea di parlamentari che hanno votato per esempio a favore della legge Cirinna o che vanno ai gay pride tipo Renata Bolverini e gli altri amici di Forza Italia noi siamo un'altra cosa siamo alternativi alla destra e alla sinistra siamo il popolo della famiglia o noi o loro come dice Giuseppe Brienza qui noto su Facebook come Joseph Bri allora cari amici sono arrivato alla fine di questa puntata e vi ringrazio molto per la partecipazione vi chiedo di nuovo di condividerla se potete sul vostro profilo vi chiedo un mi piace per dare uno scatto ai nostri algoritmi diciamo così Angela Chianese dice da soli non fate il bene dei cattolici invece con Berlusconi sì diciamo vabbè Anna Russo dice Berlusconi ha detto non disperdere i voti nei movimenti ci teme certo che ci teme è ovvio saluto Giulia Matteoni che dice mi piace la proposta del popolo della famiglia rispiecchia tutto ciò in cui credo saluto Monica Consigliere Barbara Potignani che dice bellissima serata ieri grazie grazie a te cara Barbara Maria Antonietta Corsi Aldo Lavagnino Antonio Lauletta Federico Pieroni Ever Gheno Alex Zino Finori vi ringrazio molto per l'attenzione alla puntata di oggi non è stata una puntata facile ho detto cose dure anche pesanti qualche volta me ne dispiaccio dopo insomma però forse erano necessarie erano necessarie dovevano arrivare recapitate a Laura Boldrini recapitate a Maria Nella Boschia a Maria Fedeli e forse anche a qualche cattolico dei nostri diciamo che non si rende conto del male che fa continuando a teorizzare il collateralismo a questo potere è un collateralismo pericoloso e insano e dunque dobbiamo e non abbiamo altri strumenti se non questo per stigmatizzarlo loro hanno tutto hanno i soldi della CEI hanno il giornale della conferenza episcopale hanno il potere a noi resta qualche parola detta sui social network sperando come dice Mary Rossi che davvero il popolo e la famiglia abbia la forza che viene da Dio grazie a Mauro Chialastri a Pippo Inbesi a Marco Pennetti Federico Pieroni che mi dà il buon viaggio verso la Puglia e mi aiuta a dire e ricordarvi che domani non c'è la puntata di Stampe Vangelo proprio perché devo andare no domani ecco la Pongiluppi no devo andare verso la Puglia domani la puntata non c'è mi muovo verso la Puglia e quindi non ci siamo un abbraccio a Massimiliano Amato e tramite lui a Gianfranco Amato che sta avendo un successo straordinario con le sue conferenze in Cile attendiamo i racconti sul quotidiano La Croce se riesce a scrivere un articolo per noi saremmo ben felici di metterlo subito in prima pagina Monica Consigliere dice se vengo a Roma con mio figlio spero di prendere un caffè con te Mario sei una bella testa spero davvero di esserci anche se ho un calendario come avete visto già fittissimo che sono già 20 date del prima tranche del o capiamo moriamo tour e dunque si fa con un po' di fatica il lavoro di incontrare tutti andandoli a trovare a casa ormai sono diventato diciamo questo uno che vi bussa a casa e spero e spera di essere accolto amichevolmente come accadrà spero davvero domani in terra pugliese ci vediamo in quel di Bari anzi proprio nell'immediata periferia di Bari a Modugno vuoi la scritta Stefano Sigali pensa che questa sia la maglia dell'Italia dietro c'è la maglia numero 9 da Panzer diciamo così ringrazio davvero ciascuno di voi il generale Amato è il comandante di Norfi come scrive Maria Antonietta Carosi ma il bello nel nostro mondo è che siamo tutti generali comandanti sordati semplici siamo fratelli andiamo avanti insieme come sapete col clima bellissimo che abbiamo respirato la festa nazionale della croce a Riolo dove eravamo semplicemente una grande famiglia una grande famiglia che si unisce tutti uguali innamorati della battaglia che stiamo facendo pronti a difendere il fratello che abbiamo a fianco questo è il lavoro che dobbiamo svolgere anche con allegria anche con allegria grazie a tutti ripeto domani non c'è puntata perché devo partire per la Puglia ecco Alberto Leo che dice in questa fine settimana bisogna fare un lavoro di fuoco per il decimo municipio di Roma certo per la raccolta firme mi raccomando ci vediamo per chi è pugliese in terra pugliese domani alle ore 20 alle ore 20 a via padre Annibale Maria di Francia alla periferia appunto di Bari a Modugno ci troviamo lì prima faremo una riunione con i dirigenti del popolo e la famiglia poi alle 20 c'è l'iniziativa in plenaria con la presentazione di o capiamo o moriamo sono riusciti a risalutare anche Massimiliano Sposito che è appena arrivato Agnese Mascellari Giovanni Battista che è forse il nominativo che più è ricorso oggi nel parallelo Giovanni Battista Erode cioè del rapporto con il potere che deve renderci edotti perché quando Giovanni Battista viene sacrificato e decapitato e dopo dobbiamo sapere chi è Erode dobbiamo sapere chi è Erode è determinante capire altrimenti si muore va bene da Maria di Noce una buona giornata anche a Francesca Orsini mentre Emanuela Pongiluppi ricorda appunto l'appuntamento di domani delle ore 20 in Puglia un abbraccio anche a Stefano che dice sei grande e come sempre lo sapete non sono grande sono solo grosso da Maria di Noce una buona giornata a tutti di Puglia